No, puoi anche continuare a fare i tuoi siparetti perché poi magari li monto dietro mentre parlo Non stai registrando Sì, 16, 17, 18 Ah, perché stiamo in diretta? No, stai registrando, la devi piantare però mentre parlo Scusa Ok, no, vabbè, no, fai quello che cazzo ti parlo E non è necessario che stai così Allora, ciao a tutti ragazzi, io sono John Tom Finto E... Perché? No, poi che devo dire? Ciao ragazzi, un saluto agli amici di quellochecapita.com Io sono John Tom È un piacere essere ospitato sul vostro sito Niente, mi potete trovare su... Mi potete trovare... Mi potete trovare su JohnTom.net Oh, piantala Oppure su Facebook.com Facebook.com è un po' generico No, su Facebook.com Slash Quello sopra il 7 Se non avete la tastiera Se avete la tastiera Oppure YouTube.com Slash John Tom Tutto accaduto con la K E... E niente, vi aspetto tutti quanti al Festival di Roma Ci sarà il 23 e il 24 settembre Il Roma Oculele Festival Con artisti internazionali Italiani E tutto il resto Beh, ciao Woo! Grazie.